Buongiorno, signori Caridona, sono l'avvocato Roberto Nasci del Collegio di Parti Civile e le chiedo innanzitutto di delineare la sua storia politica, con particolare riferimento ai rapporti che lei ha avuto con Francesco Mangiameli. Io ho militato inizialmente nelle organizzazioni giovanili del Movimento Sociale di Palermo, Trabbia che è il luogo dove abitavo, successivamente per contrasti politici con quel partito abbiamo creato assieme ad altri quello che un tempo si chiamava un gruppo extraparlamentare, denominato Forza Nuova ma non ha nulla ovviamente a che vedere con Forza Nuova, nato poi tantissimi anni fa e poi in seguito ai contatti avuti con la corrente MSI, lotta popolare che era nata in previsione di un congresso che si doveva svolgere a Roma, fumo chiamati a Catania dai responsabili del sindacato della Cisnal e in quell'occasione ho conosciuto Paolo Signorelli con cui si staurò un rapporto politico che poi ci conosce a, come dire, dopo vari passaggi a incontrare anche tramite lui i fondatori di quella che diventerà terza posizione, quindi Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi. Con terza posizione ho militato fino alla fine dicembre del 79 perché da quella data in cui io poi mi sono sposato e ho abbandonato l'attività militante. Con terza posizione, rispondo quindi alla domanda che lei aveva posto, con terza posizione nasce anche il mio rapporto con Francesco Mangiamelli che fino ad allora era stato un dirigente del movimento sociale ma non aveva mai fatto parte di altri gruppi anche perché Palermo non è mai stata al centro di altre organizzazioni. Quando le dicevo siamo stati per primi noi forse a creare un gruppo fuori dall'MSI perché non c'erano antecedenti e Francesco Mangiamelli appunto per contrasti con il partito di cui era anche dirigente aderì a terza posizione e continuò anche dopo che io ho lasciato la militanza politica. Quindi lei ha lasciato tutto, ha detto, nel dicembre del 79. Quindi tutta la sua vicenda si snoda fra il 79. E dal, diciamo, dal 69 al 79. Quindi lei comincia a collaborare con Francesco Mangiamelli e con chi viene in contatto nell'ambito di questa collaborazione in terza posizione. A Palermo o fuori Palermo? A Palermo e fuori Palermo. A Palermo quel gruppo di cui le dicevo che erano i ragazzi che erano usciti con me dal movimento sociale che poi avevano appunto dato vita a quei gruppi per fare le nuove erano dei giovanissimi, Pino Larussa, Nicola Settegrane, Marcello Papadia insomma ed altri. E poi appunto quando entrò anche Francesco arrivò anche qualche vecchio militante che era per motivi anche anagrafici, era più vicino a lui, Giovanni Zampardi insomma ed altri. Questo un po' il… E con la direzione centrale di terza posizione? Con la direzione centrale? I rapporti che noi avevamo infatti erano fondamentalmente con Fiore e Adinolfi. Infatti quando venivamo a Roma per… di solito erano le riunioni di redazione del giornale, lei sa che terza posizione aveva anche un foglio diciamo omonimo e quindi ci riunivamo normalmente una volta al mese circa in questa redazione romana e i rapporti ripeto erano fondamentalmente con Fiore e Adinolfi. E i suoi contatti con Fiore e Adinolfi sono venuti tramite Francesco Mangiameli o con Paolo? No, no, no. Francesco è entrato dopo che avevamo preso contatti noi con Fiore e Adinolfi per il tramite appunto di Paolo Signorelli. Ok, quindi vediamo la figura di Paolo Signorelli. Mi sembra di capire che lei l'ha conosciuto bene Paolo Signorelli. Sì, ripeto, il primo contatto, la prima occasione d'incontro è stata a Catania durante la presentazione di questo documento che fra l'altro qua è un documento politico in cui si preannunciava diciamo questa corrente interna che era MSI, lotta popolare e lui era venuto a Catania per esporre un po' quali erano le indicazioni di questo gruppo. Ci siamo conosciuti in quell'occasione poi ci siamo rincontrati, io sono stato a Roma ospite a casa sua e a mia volta l'ho ospitato lui e la famiglia due volte a Trappia per due state successive. In questi incontri che aveva con Paolo Signorelli era presente in alcuni di essi? Era presente anche Sergio Calore? Di Sergio Calore sinceramente ho scarsa, potrebbe anche darsi ma non me lo ricordo. C'era sicuramente Paolo Alleangli. Ok, invece per quanto riguarda quei due incontri che avete avuto con Paolo Signorelli in Sicilia nell'estate del 76 e del 77, dico bene? Esattamente, esattamente. Può riferire in particolare rispetto a ciò che è avvenuto nell'incontro dell'estate del 77? Certo. Praticamente successe questo fatto. Erano, ripeto, ospite a casa mia quindi a Trappia che dista da Palermo una trentina di chilometri. Il pomeriggio siamo scesi in città perché avevamo appuntamento con degli altri amici, Roberto Miranda purtroppo è scomparso qualche anno fa con Roberto Miranda e normalmente noi ci davamo appuntamento a Piazza Politeama, un po' che era il punto di riferimento dell'area, chiamiamola di destra. Quando siamo arrivati Roberto Miranda aveva avuto un alterco con una persona che non avevamo neanche capito, in cui poi si inserì un funzionario dell'Avigo Simborgese e Aleandri, pensando che stesse raggredendo Roberto Miranda, viede un pugno a questa gente. Fu ovviamente portato in questura e sui giornali venne fuori che loro appunto erano ospiti miei a Trappia. Lì domani, a casa mia, fra l'altro durante la notte Paolo Signorebbe ebbe un malore e mio padre lo accompagnò al pronto soccorso di Termini Merese che dista 5 km da Trappia e io ero rimasto in casa e mussò alla porta un signore sconosciuto che mi si presentò dicendo sono un vecchio amico di Paolo, so che è qui da lei perché ho letto sul giornale Sicilia il fatto che è accaduto ieri, mi farebbe piacere salutarlo. Gli ho raccontato appunto che lui era in quel momento al pronto soccorso di Termini, quando rientra, riferisco, allora dica che potete venirmi a trovare in, io ho un villino dove sono in villeggiatura con la famiglia, mi diede più o meno le indicazioni, cioè venitemi a trovare lì, avrei piacere appunto di salutare Paolo. E così fu, quando lui rientrò ho riferito l'episodio e Paolo Signorelli mi spiegò che questa persona, ripeto a me sconosciuta, non l'avevo mai vista prima di allora, era un funzionario dei servizi che lui aveva conosciuto tanti anni prima per un'altra vicenda particolare in tribunale perché allora fidanzato, con quella che poi diventerà la moglie, diciamo la fidanzata era andata in tribunale a chiedere l'autorizzazione di una visita, in quel momento Paolo era stato arrestato, non lo saprei dire per quale vicenda, e il giudice aveva negato questo colloquio e lei si era messa in un sedile del corridoio e stava piangendo, quindi le si avvicinò questo signore che le chiese qual era il problema, se la poteva aiutare, lei gli spiegò la cosa, non si preoccupi, ci penso io e fece ottenere il colloquio che era stato invece negato dal giudice, dal magistrato e quindi da lì poi quando lui era uscito si erano incontrati, era nato questo rapporto diciamo di amicizie di tanto in tanto, mi raccontava Paolo, si erano incontrati e lui per primo si meravigliò del fatto che questo signore era proprio a Trabbia, mentre lui era ospite a casa mia anche perché dell'invito a Paolo lo sapevo io e lui ovviamente, quindi era del tutto casuale almeno lui diceva questa contemporaneità di presenza a Trabbia, quando poi andammo comunque a trovarlo nel pomeriggio, effettivamente c'era una signora immaginando la moglie e due bambini piccoli e lui diceva che era stato già l'anno precedente, ancora a Trabbia in villeggiatura, sempre in quell'immobile. E qual è stata l'azione vostra, sua e di Francesco Mangiamelli a questo incontro? Francesco Mangiamelli intanto non c'era, in quel momento... No, nel senso quando ne avete parlato... Successivamente Francesco, a prescindere da questo episodio, aveva delle riserve nei confronti di Paolo e in generale di tutta quell'area anagraficamente precedente, quindi più grandi d'età perché nei nostri ambienti, insomma, c'era sempre stata questa, diciamo, si sussurrava sempre di questa contiguità che non era chiara fra ambienti come dei servizi, ambienti politici e quindi, ripeto, noi a Palermo per fortuna non avevamo mai avuto problemi del genere, quindi c'era una particolare diffidenza Ecco, nei confronti di Paolo E sa se Francesco Mangiamelli è stato mai avvicinato da soggetti di servizi? No, no, che io sappia no Non è stato mai riferito da nessuno? Che io sappia? Assolutamente no E Enrico Tomaselli è un soggetto con cui lei è venuta in contatto nel corso della sua attività politica? Eravamo, diciamo, colleghi di liceo perché entrambi abbiamo fatto il liceo artistico anche se in, diciamo, in sezioni separate, quindi ci siamo conosciuti durante il periodo del liceo abbiamo fatto militanza assieme durante il periodo della militanza all'interno del fronte della giuventù però purtroppo durante questa militanza lui venne arrestato per degli scontri davanti a un liceo e quando poi fu scarcerato per motivi anche particolari insomma che erano successi con il segretario allora del fronte anche lui è scomparso Guido Virzi non rientrò più al fronte della gioventù nel frattempo noi avevamo costituito quei gruppi fuori al proprio fra parentesi anche per loro perché ci fu negato un corteo di solidarietà mentre loro erano arrestati e nacquero dei dissensi con i dirigenti palermitani del partito e quindi decidemmo di uscire proprio in quell'occasione dopodiché Enrico si trasferì a Roma quindi non fece mai parte di terza posizione almeno fino a quando c'ero io che militavo in terza posizione poi so che successivamente, ma ripeto, questo è del relato quindi non le posso dare nessuna conferma però durante il periodo della mia militanza sicuramente Tomaselli non faceva parte di terza posizione di Palermo E in che periodo si è trasferito a Roma Tomaselli lasciando la Sicilia? penso, non vorrei ricordare male, ma 76, 75, qualcosa del genere comunque prima che nascesse diciamo terza posizione a Palermo E che relazione ha avuto con la signora Elly Patrizia? La mia ex moglie la sua ex moglie ci siamo conosciuti proprio a casa di Paolo Signorelli perché lei era amica di un nipote anzi, in quell'occasione in cui mi fu presentata la sera in cui mi fu presentata lei mi diceva che doveva trasferirsi proprio a Palermo perché lavorava per un ente regionale ed era stata proprio trasferita a Palermo quindi si sarebbe dovuta cercare un'abitazione a Palermo e Paolo mi raccomando se puoi dargli una mano in questo nel trovare insomma un'abitazione qualcosa eventualmente le può servire qualcosa almeno tu sei del luogo e puoi esserle utile ora ci cominciamo a frequentare da lì poi nacque anche una relazione E da quando a quando siete stati sposati? Sposati dal 79 all'82 se non ricordo ma In quel periodo la signora Elly Patrizia lei ha parlato anche della sua attività politica delle sue frequentazioni? Sì ma già lei ripeto sapeva già dall'inizio quali erano i miei rapporti che avevo fatto militanza politica e lo facevo quindi penso che fosse a conoscenza di questi rapporti lei non faceva politica ovviamente non era una militante politica No le chiedo questo perché Elly Patrizia fa riferimento in alcuni suoi con le sue dichiarazioni a un istituto platone di Palermo frequentato da un certo Gigi No è il preside, il proprietario è il preside è un istituto privato ora parificato è uno dei più importanti era uno dei più importanti istituti privati di Palermo Gigi Aurea, Pierluigi Aurea n'era il preside e ancora oggi ancora lui che dirige l'istituto Ok perfetto grazie Lei ha mai conosciuto Valerio Fioravanti? Assolutamente no E Francesca Mambro? Assolutamente no Ha saputo se Francesca Mambro e Valerio Fioravanti ha saputo da Francesco Manzameri sono andati in Sicilia Ripeto questo dopo del relato quindi non da Francesco Mambro No 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 perché quando io ho interrotto la mia militanza politica anche con Francesco insomma c'è stato un po' di non è gradito ecco che mi ritirassi dalla militanza politica quindi ci siamo lasciati insomma non in rapporti tranquilli Lei ha assistito ai funerali di Francesco Manzameri? Allora? Ai funerali? No 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 Non è andato in quella No no purtroppo non sono stato presente Per ragioni politiche o per ragioni? No 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 perché proprio non ho saputo il giorno del io abito ripeto fuori Palermo città quindi non lo avevo saputo Aveva saputo della morte di... Come? Aveva saputo... E lì anche perché me l'hanno comunicata i funzionari del... del... della questura di Palermo mi sono venuti a... a prelevare quella mattina per farmi... cioè per interrogarmi e contemporaneamente ho saputo da loro che era successo l'episodio Ok però non ho altre domande grazie Si sente? Buongiorno Avvocato Porti del Collegio di Parte Civile Torno un attimo sui rapporti vostri con Signorelli Quali erano i rapporti naturalmente politici tra Signorelli e Mangiameli? Ma tra Signorelli e Mangiameli non c'erano rapporti politici perché Signorelli a un certo momento diede vita a un giornale che si chiamava Costruiamo l'azione e quasi contemporaneamente nacque terza posizione quindi Francesco Mangiameli era di fatto nella redazione di quel secondo giornale e ripeto e c'erano delle riserve proprio su Signorelli come ho spiegato prima cioè non... non... come dire... non... non era visto ecco come una persona affidabile almeno... se posso riassumere così un po' Questo era l'atteggiamento che aveva Mangiameli nei confronti di Signorelli cioè diffidenza perché non era affidabile ho capito bene? No diffidenza perché appunto intanto perché noi a Palermo ripeto abbiamo sempre seguito una linea di impegno politico ecco quindi tutto ciò che esulava da quello cominciava a diventare zona d'ombra e quindi non... abbiamo cercato sempre di non... come dire... mischiare... Mi può chiarire bene... l'ha già detto a papà di servizi Cos'è questa distinzione tra voi che fate politica e tutto ciò che è il resto del contesto? Diciamo c'era... negli ambienti della destra o dell'estrema destra Fate voi... preferite voi la... come dire... l'aggettivo che meglio calza Dal... diciamo... dal cosiddetto colpo di stato borghese in cui ci sarebbe stata la partecipazione di Avanguardia Nazionale E quindi tutto quell'ambiente anche anagraficamente legato a quei movimenti che hanno preceduto diciamo quelli nati poi più o meno con noi C'era come dire... questa riserva di fondo Già il fatto stesso ecco che si parlava di una presunta connivenza fra appunto servizi, forze armate... non era esattamente... Parati dello Stato... Sì sì... non era esattamente quello... la linea politica che noi... Voi eravate invece... Noi eravamo dei contestatori del sistema e quindi è quello che abbiamo fatto... più o meno... Mentre quegli altri non erano dei contestatori del sistema... Ma erano... O quantomeno... diciamo... è probabile che... preferissero come dire... perseguire altre vie... ecco... ma... non era quello ripeto l'impostazione che avevamo seguito noi... Va bene... Sì invece... signorelli... qual era... avevi interesse per il vostro progetto politico... qual erano... Ma Luca ha appena detto che esattamente... che non è... No... signora... io dicevo mangiameli... ma signorelli... aveva... Ho spiegato... ho spiegato... ho spiegato benissimo... vada avanti... Va bene... allora... le chiedo... torno sull'episodio... Relativo a quella visita che ha avuto a casa sua... da parte di questo soggetto... che poi... ecco... Si ricorda che di averne parlato... con il dottor Falcone... ha avuto delle... Io credo di sì... anche se... su questo la mia memoria non è... penso di sì... perché il dottore Falcone mi convocò per... Se non ricordo male... per l'omicidio di Mattarella... quindi non era per... però chiaramente credo che... mi fu anche detta di questo... mi fu anche chiesto di questi episodi... Si ricorda se ci furono degli accertamenti? No... o meglio... sì... nel senso che mi venne... il dottore Falcone incaricò un suo collaboratore... credo che fosse un ufficiale dei Carabinieri... Di andare con me a Trabbia... a individuare quel famoso luogo... dove incontrammo... Il personaggio di cui prima... il vero presunto... Uomo dei servizi... Purtroppo in quell'occasione... che già comunque... quando mi fu interrogato dal dottore Falcone... Sono passati un po' di anni... Io non... ero focalizzato su un certo posto... Però sono intervenuti diciamo... parecchie modifiche... Anche di carattere... come dire... urbanistico... in quella zona... E soltanto nel 2019... quando... venne interrogato dai giudici che credo hanno riferimento all'attuale procedimento... E io personalmente ho detto che... potevo dare... come dire... il riferimento preciso... Perché non in quell'occasione... in qualche anno precedente... Transitando sulla statale... che è quella che collega a Trabbia con l'ingresso dell'autostrada... Finalmente... avevo visto dove era il luogo... dove appunto avevamo incontrato questo personaggio... E infatti fu fatta credo una verifica... e poi... Le cui esiti... ovviamente non conosco... e non sta a me... ovviamente conosce... Ecco... senta... tra le persone aderenti a terza posizione... che lei ne ha citate qualcuno... dell'epoca Palermo... Si ricorda anche un certo Vaccaro Gaetano... Si si si... era un giovane militante con cui poi... ho continuato... diciamo... Una... una... una frequentazione anche... di ordine non solo politico... Poi anche di tipo culturale... Che è successo... ecco... Sente... invece... per quanto riguarda... Avanguardia Nazionale... Lei ha avuto modo di conoscere persone... Di aver avuto contatti... No... infatti... come dicevo prima... Almeno... qui... parlo per quella che è la mia conoscenza diretta... Quindi... dai primi anni settanta... E poi... a Palermo... Non esisteva nessuna sede... Né... militanti... Di avanguardia nazionale... Probabilmente... forse... In anni... molto precedenti... C'era stata anche una... una sede di ordine nuovo... Ma... non il movimento politico... Il centro studi... Eh... ma durante il periodo... Della nostra militanza... Non c'era... né militanti... Né sede di avanguardia nazionale... Ecco... ma lei... L'avvocato... Stefano... Stefano Menicacci... L'ha mai conosciuto? Cioè... e... Mi ha assistito... Proprio... In un dibattimento... Qui a... A Bologna... Si ricorda... Un episodio... Relativo a questo... Sì... Lui... Quando io veni convocato... Per essere sentito... Mi... mi disse che... Eh... Se potevo... Riferire... Eh... In sede di interrogatorio... Appunto... Quello che sto confermando anche a lei... Cioè... Che a Palermo... Non c'era mai stata... Una... Sede... E quindi... Dei militanti di avanguardia nazionale... Almeno... Fin quando io... Ho fatto militanza a Palermo... Questo... Mi era stato chiesto... Questo ho detto... Ma a prescindere... L'avrei detto... Comunque... Perché... Per me è la verità... Quindi... Con Francesco Manzanmeli... Parlò mai di avanguardia nazionale? Sì... Se ne parlava... Ma ripeto... Con... Scetticismo vicendevole... Attunto... Era il movimento che purtroppo... Si è trascinato appresso molte ombre... Quindi... Era normale... In quegli anni... Insomma... Diffidare... Tutto ciò che... Girava intorno al nome di avanguardia nazionale... Lei però... Ha incontrato... Mai Tilger? Tilger l'ho incontrato... Abbiamo fatto... Una lunga... Esperienza politica... Soltanto... Quando lui ha lasciato... La fiamma per il colore... Quindi... In tempi molto più recenti... E... Siamo ancora... In ottimi rapporti amicizie... Ma... In quell'epoca... Non l'avevo mai conosciuto... Per il momento... Un'altra domanda... Avvocato Speranzoni... Difesa di parte civile... Solo alcune... Precisazioni... E... Lei... Diciamo... Come militante... Politico... A Palermo... In quegli anni... Ha mai sentito... O... Ha avuto modo... Di avere... Tra le mani... Una rivista... Che si chiamava... Le vie... Della tradizione... Fondata... Dal Dottor... Gaspare Cannizzo... Ne ha mai sentito parlare... Se si... Se può riferire la cosa... La... La conosco... Molto bene... Perché... Ho conosciuto anche... Il Dottore Cannizzo... Che è scomparso... E... Per un... Breve periodo... Abbiamo anche... Avuto una collaborazione... E... Ed era una rivista... Che si... Stampava a Palermo... Molto prima... Che io forse... Iniziasse a fare politica... Ed era Francesco Mangiamelli... In realtà... Che aveva dei contatti... Col Dottore Cannizzo... Perché l'aveva conosciuto... Prima che... Fu lui a presentarmelo... Ecco... Ecco... Il Dottor Gaspare Cannizzo... Sa dire che... Attività lavorativa... Svolgeva... Nella vita... Che lo sappia... Era un funzionario regionale... Cosa esattamente... Facesse... Non lo so... Era un funzionario regionale... Ecco... Sa... Se... Le vie della tradizione... Aveva... Diciamo... Come... Referente... Diciamo... Culturale... Un movimento... Eh... Un movimento... Diciamo... Esoterico... Che aveva... Diciamo... Questa filosofia... Eh... Chiamiamola... Neopagana... Non so se... Eh... Quanto... Quanto può... Come dire... Interessare... Questa corte... Però... Il dottore Gannizzo... Era... Il gran maestro... Del rito... Antico... E primitivo... Di Misraim e Memphis... C'è un vecchio rito massonico... Eh... In origine egiziana... E contancorenemente... Era anche il gran maestro... Dell'ordine martinista... Ed era stato... Direttamente... Investito... Dal... Da Gaspare Ventura... Che era... Il suo maestro... E... 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 Di cui lui diventò il successore... Quindi era un altro esponente... Della massoneria cistidiana... Diciamo... Un importante... Il significato... Erano... Eh... Sia... Il ramo martinista... Che quello... Misraimita... Erano... Diciamo... Una... Massoneria molto marginale... A essere sinceri... Ecco... Questo è un elemento... Lo dico proprio senza... Ombra di dubbio... Questo è un elemento di un'importanza... Strat... Non importante... Stratosferico... Ma infatti chiedevo... Il maestro di Cannizzo... Si chiamava... Gaspare... Gaspare Ventura... Gaspare Ventura... Di Venezia... Novità processuale... Assoluta... Legata... All'incontro... Fra... Gaspare Cannizzo... Francesco Mangiamelli... E Mambro e Fioravanti... Nel luogo... Dove viveva... Quindi... Adesso... Su questo tema... La Dicione di parte civile... Ritiene di dover approfondirlo... Allora... Ecco... Ha fatto dei riferimenti... Quindi... Ha due realtà massoniche... Ecco... Le chiedo... La prima realtà massonica... Di cui il Dottor Cannizzo... Dirigente... Alla Regione Sicilia... Era maestro... Può definire... Visto che ha collaborato con lui... Che cosa fosse... Ecco... Dentro la massoneria siciliana... Il rito di Memphis... Era praticamente... Un... Un ordine massonico... Che faceva capo... Così vuole la... La leggenda... La tradizione... A Cagliostro... Quindi si... Diciamo... Si differenziava... Da... Che so... Dalla... Dalla massoneria ufficiale... Di Piazza del Gesù... Di Palazzo Giustiniani... Perché appunto... Non era... Non era riconosciuto... Ufficialmente... Dal... Dai due rami più importanti... Della massoneria... E... E poi... Quello... Invece di... Di cui parlavo... Quindi... L'altro... Il... 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 Il rito martinista... Credo che provenisse... Direttamente appunto... Dai rapporti che lui aveva avuto... Con... Il Conte Ventura... Ecco... Il Conte Ventura... Può dire alla Corte... Chi fosse... No... Perché io non l'ho mai conosciuto... Ho letto... Ho scritto... Dei libri... Che riguardano appunto... I due... I due ordini... Di cui... Di cui... Parliamo... Era un esponente di alto livello... Insomma... Del... Di... Un rappresentante di alto livello... Ecco... Di... Di questi due... Di questi due ordini... Quando collaboravate a... A questa rivista... Le vie della tradizione... Eh... Avevate altri rapporti con altri aderenti a queste realtà oltre... No... Avevamo... In realtà... Il... Dottore Cannizzo... Eh... Aveva intenzione... Diciamo... Di... Riorganizzare... Rimettere in... Diciamo che in quel periodo... Da quello che avevo capito... Almeno per quello che lui mi diceva... Questi riti erano quasi messi in sonno... Come si dice in gergo massonico... Quindi non... Non erano operativi... Ecco... Lui aveva intenzione di riattivare... Diciamo... La ritualità di entrambi gli ordini... Ecco... In che anni siamo qui? Eh... Siamo lì appunto... Intorno al... Settanta... Io avevo già... Aperto la libreria... A Palermo... E... Lui venne proprio... In quell'occasione... Me lo... Me lo presentò... Ufficialmente... La moglie di... Di... Di Francesco Mangiamelli... Dice la signora Rosario... La signora... Sì... Sì... E qui diciamo nell'81... Penso... Ecco... Quindi sì... Siamo in quel periodo storico... Nell'81... Direi di no... Perché... Mangiamelli era già morto... Nell'81... Quindi... Sì... Però io... Il rapporto con lui... L'ho iniziato in quel periodo... Quando appunto avevo aperto questa... E quando... Diciamo... Quando... Francesco Mangiamelli era morto... Io ancora non avevo la libreria a Palermo... Sì... Ecco... Però... Prima ha fatto riferimento a una collaborazione alla rivista... Dove c'era anche Francesco Mangiamelli... No... Contemporaneamente no... Io ho collaborato dopo la morte di Mangiamelli con il dottore Cannini... Prima collaborava Francesco Mangiamelli... Sì... Esattamente... Esattamente... Ecco... Francesco Mangiamelli apparteneva all'Ordine Martinista... Che lo sappia sì... Ecco... L'Ordine Martinista aveva delle riunioni massoniche che avvenivano nella città di Palermo... In quel periodo... Sì... C'era una sede... In... Una delle... Sì... Tra le principali... Che era la Via Macqueda... Via? Via Macqueda... Macheda... E... E... Lì... Avvenivano... I riti di entrambe le due... Le due massonerie... Le due massonerie... Le due massonerie... In senso stretto... Non è neanche una massoneria... Ecco... Lei ricorda se... Quando venne convocato dal Dottor Faicone... Rispettivamente... Relativamente... All'omicidio di... Di... Di Mattarella... Eh... Uno dei temi di interessi del magistrato... Poteva essere anche la figura di Gaffa Regamini... Non vorrei ricordare male... Ma io credo di no... Credo che non mi fu fatto riferimento al... A... A questi due... Eh... Come dire... A queste due organizzazioni massoni... Non mi pare di ricordare... Che mi... Mi... Mi chiese qualcosa... Dico... Potrei... Ricordare male... Però... In questo momento... Ritengo che non mi furono... Non mi furono fatte domande specifiche... Su questi due... Ecco... Le chiedo un'altra cosa... Nel contesto... Politico... Invece... Che frequentavate... Quando era ancora vivo... Ciccio Mangianelli... Era nota... Ad altri militanti... Della destra palermitana... L'appartenenza... Rette... L'affiliazione di Ciccio Mangianelli... A questa realtà massonica... No... Per ovvi motivi... Perché come tutte le affiliazioni massoniche... Presuppongo un segreto... No... Non credo... A me fu... Rivelato in realtà da Cannizzo... Dopo che... Francesco... Era... Era già morto... Ecco... Gaspari Cannizzo... Con lei quindi... Ha avuto un rapporto di... Di frequentazione... Si ha detto è morto... Quindi... Le chiedo... Ha avuto rapporti anche... In epoche successive... A questi fatti... Tipo il Dottor Cannizzo... Soltanto... In quel periodo... Come le dicevo... In cui avevo aperto... Quella libreria... Una libreria... In carattere esoterico... E quindi... Con lui... E... Come dire... Diventò anche... Un punto di... Di diffusione... Della rivista... Quindi... Lui ci portava le copie... Di Via della Tradizione... E noi... Le... Le... Vendeva... Ecco... Lei non ha mai... Partecipato... O... Non ha mai aderito... A... Questi riti masonici... Di cui ha parlato oggi... Io si... Ho... Ho aderito... A questi due riti... A tutti e due... A tutti e due... Sì... E ne fa ancora parte... No... Assolutamente no... Assolutamente... Ne ha fatto parte... Per un certo tempo... Sempre... In quel... In quei due anni... Diciamo... Due o tre anni... In cui ci siamo frequentati... Con il Dottore Cannizzo... Poi... Non ci siamo più... Ecco... Quindi... Ha partecipato... Anche... Ai momenti... Diciamo... Di incontro... Massonico... In Via Macheda... A Palermo... Assolutamente sì... Riferire... Quali erano... Gli altri esponenti... Di questa... Di queste logge... Massoniche... Ma erano... Per lo più... Diciamo... C'era una... Prevalenza... Femminile... Il fatto di persone... Che per motivi proprio... Come dire... Chiamiamoli... Rituali... Le riunioni... Avvenivano con... Come dire... Con dei cappucci... Quindi anche volendo... Non si potevano... Riconoscere le persone... In ogni caso... Io non ho... Non ho... Avuto nomi... Diciamo... Di altri partecipanti... Quanto meno... Non mi ricordo... Forse di qualcuno... Che però era... Dell'altro... Non tanto del... Perché in realtà... L'unico rito... Che si... Che si praticava... Più o meno regolarmente... Almeno fino a quando... Ci sono stato io... Era quello martinista... Quello invece... Di Misraem e Memphis... Come le dicevo... Lui voleva... Riattivarlo... Perché in realtà... Era inattivo da... Almeno così mi fu detto... Da tempo... Le chiedo anche... Rispetto... Sempre... Diciamo... All'ordine martinista... Vi erano anche... Diramazioni... Di questo ordine... In altri contesti... Siciliani... Mi riferisco... Soprattutto... Al contesto... Trapanese... La città di Trapanese... No... L'unica... Come dire... Propagine certa... Era Catania... Catania... Dove c'era... Un'altra realtà... Di entrambi... Un altro... Il referente a Catania... Dell'ordine martinista... No... Questo... Non lo ricordo... Non glielo saprei dire... Anche perché credo di non averlo forse mai incontrato... Nel contesto massonico palermitano... A cui sta facendo riferimento... Ha avuto modo di sentire... Menzionare il circolo scontrino? No... Direttamente... Dai giornali... Ma personalmente no... Rispetto invece... Cambio tema... Ai rapporti... Fra Ciccio Mangiameli... E... A Pierluigi Concutelli... E alla famiglia Concutelli... Ecco... Può riferire quello che sa... Dei loro rapporti? I rapporti con... Per Pierluigi Concutelli... E la famiglia... Risalivano... Ad anni... Prima della mia... Militanza... Diciamo... Palermitana... E c'era un legame molto forte... Con... Con... Normalmente... Francesco andava... Diciamo... Presenziava i processi... E comunque... Si sentivano con la famiglia... Che fatto poi... Non abitava più a Palermo... Si era trasferita a Catania... Ecco... Lei ha avuto modo di... Eh... Constatare... Di assistere... A incontri... Fra... Mangiameli... E Concutelli... Quindi siamo prima... Del 76... Sostanzialmente... Eh... No... No... Perché... Le ripeto... Con... Francesco Mangiameli... Pur... Nello stesso ambiente... Chiamiamolo di destra... Palermitano... Ma in realtà... Fino al momento... Della sua militanza... In terza posizione... Io non avevo avuto rapporti... Quindi non... Ci... Ci conoscevamo entrambi... Per nome... Ma non c'eravamo mai incontrati... Nemmai avevamo... Diciamo... Collaborato... Direttamente... Ecco... Ha notizia di... Un'attività di militanza... O di doppia militanza... Di Francesco Mangiameli... Anche in ordine nuovo... In epoca precedente... No... Che lo sappiano... Non credo di non... Ecco... Un particolare invece... Prima... Parlando del funzionario... Dei servizi segreti... Collegato... A Paolo Signorelli... Ha detto... Questo signore... Era siciliano... No... 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 Era venuto... Per due volte... A villeggiare... A Trapia... Ma che fosse siciliano... No... Nessuno me l'ha detto... Allora... Forse esatto... Era una precisazione... Quindi... Ho capito male... Tanto... Sentendolo parlare... Escludo che fosse siciliano... Quindi... Diciamo... La casualità... È di un soggetto... Non siciliano... Che si è trovato... A Trapia... In due situazioni... Completamente diverse... Collegato... Alla figura... Però... Di Paolo Signorelli... Esattamente... Ecco... Poi... Invece... Prima... Mentre deponeva... Ha fatto riferimento... A quella cartellina... Che è al sitavolo... Dicendo... Se ho capito bene... Ho un documento... MSI Lotta Popolare... Sì... Ecco... Praticamente... Quello con cui... Ecco... Tutta questa documentazione... Che ha portato... Se lei vuole... Questo... Ho fatto una copia... Quindi... Se lei vuole... Può essere utile... Gliela posso pure dare... La copia di questo documento... Con cui... Parliamo di un documento... Credo che sia... Appunto del... Sì... Qualcosa del genere... Non ce l'ha data... Però... È fit... Quindi... Se vuole... Glielo posso... Possiamo visionare... Glielo posso dare... Che copie... Sì... Anche... Ma... Non l'abbiamo mai visto... Quindi... Lo vision... Oh... Passiamola... Prego... No... Ma la Corte... Non è... Non lo so... Cioè... È uno scambio privato... Questo documento... Grazie... Extra processione... Possiamo... Presidente... Siccome sono un po' di cartelle... E... Questo è un novum... Che è emerso... Durante la deposizione... Possiamo avere... Cinque... Dieci minuti... Per leggerlo... Proprio... Possiamo rimanere... Un attimo... No... La Corte... Si ritira... Dottor Incardona... Ecco... Abbiamo letto... Riprendo... Avvocato Speranzoni... Abbiamo letto... Questo documento... Manca una pagina... Non so se... L'ha trovata... Mi premurerò di fargliela avere... Perché purtroppo... Pensavo di averne una copia qui... L'ho lasciata in albergo... Si... Quindi poi... Se mi da un... Anche un'email... Gliela posso poi inviare... Guardi... Sulla base di questo... Di questa lettura... Ecco... Le chiedo... Due precisazioni... Allora... La corrente... Lotta Popolare... Aveva... Dei referenti... Anche a livello nazionale... All'epoca... Naturalmente... MSI... Lotta Popolare... Si... Lotta Popolare... Lì aveva... Infatti a Catania... Credo si... In altri luoghi... Però... Ripeto... Io non... Non ricorda chi fossero... No... Perché io... L'unico contatto che ho avuto con loro... È stato quello a Catania... Quando c'è stato questo incontro... Ecco... Nella sede della CISNAL... E in cui c'era presente Paolo Signorelli... Ecco... Paolo Signorelli... Quindi all'elaborazione di questo documento... No... No... Io credo di no... Questo è il documento che è stato distribuito a Catania dai Catanesi... Infatti ci sono credo anche i nomi dei due responsabili della CISNAL di Catania... Mannello e... Sì... E' sottoscritto... E' sottoscritto... MSI Lotta Popolare Coso Sicilia 11 Catania... Esattamente... Quindi... E' un'elaborazione del gruppo Catanese... Sì... Sì... Del gruppo Catanese... Esattamente... Esattamente... Riferimento... Citando Paolo Aleandri... L'episodio del pugno... Il test ha fornito un articolo del 9 agosto 78... Del giornale di Sicilia... Confermativo dell'episodio... Quindi rispetto al dato dichiarativo... Questo articolo di stampa... Neofascisti in azione al Politeama... Risse attorno al telefono... Ha offerito un agente... Un arrestato... Io lo deposito... Ecco... Chiedo anche... Ritornando... Sull'Ordine Martinista... Allora... Le risulta... Che vi fosse una sede... Dell'Ordine Martinista... A Perugia? No... Sinceramente no... Il... Gran Maestro... Della loggia... Massonica... In questione... Francesco Brunelli... Ma... Ho capito a cosa si riferisce... Mi vuole impedire... No... Quello che so... Ma... Questi sono episodi... Credo avvenuti... Dopo che... Erano interrotti... I miei rapporti con Cannizzo... Sì... Il... Brunelli... A cui lei fa riferimento... Non ha riconosciuto... Da quello che... Ho saputo... L'investitura... Diciamo... Di Cannizzo... A Gran Maestro... Dei due... Dei due ordini... Ha dato vita... A due... Come... A due realtà... Indipendenti... Da quella palermitana... Quindi c'è stata una scissione... Sì... Da quello... Sì... Che è successo questo... Ecco... Le risulta che vi aderì... A questa... In questo ambito di scissione... Anche Adriano Tiger... No... Ma... Per quello che conosco di... Di Tiger... Dubito che... Avesse interesse di questo genere... Beh... Il papà però... Di Adriano Tiger... È... Risultato... Iscritto... Alla loggia P2... L'ha mai saputo questo? No... Questo... Onestamente... Lo apprende qui adesso... È nelle liste... E... Le chiedo... Questo... Ecco... Dove era la redazione romana di terza posizione? Prima ha parlato di questi viaggi che una volta al mese facevate dalla Sicilia... Questa è una bella domanda... Può essere nella zona di Piazzale Clodio? Sia io che Mangiameli quando venivamo a Roma eravamo ospiti alternativamente o a casa di Fiore o a casa di Adinolfi... C'era una sede dove ci incontravamo ma non... Sinceramente non mi ricordo dove era... La zona di Piazzale Clodio dove c'è il palazzo di giustizia? Potrebbe essere però sinceramente non... Non posso essere confermativo... Ecco... In occasione della morte di Ciccio Mangiameli e di tutto quello che è seguito... Vi è stato un dibattito interno al vostro movimento in Sicilia? Dopo la morte di Mangiameli in realtà il movimento non c'era già più... Ha discusso con degli esponenti della destra siciliana di questa morte... Più che altro con la moglie e la figlia con cui poi c'è stato un... come dire... C'era già un legame ma diciamo a maggior ragione dopo quello che era successo abbiamo... Come dire... Cercato di essere vicini alla moglie e alla figlia il più possibile quindi negli anni abbiamo... Come dire... Frequentato e visto spesso la signora... Mangiameli con la figlia Barda... Ha mai manifestato la signora Rosaria Amico e o la figlia di Rosaria Amico e di Francesco Mangiameli il timore di ritorsioni e di pericoli per la propria vita... Rispetto all'ambiente dei NAR resosi responsabile dell'omicidio... No... Obbiettivamente... Le hanno mai manifestato dei timori... No... Nessuno... Almeno... Personalmente non ho mai avuto... come dire... ecco... Da loro ho riferito questo tipo di timore... No... Ecco... Mentre la signora Rosaria Amico le risulta avesse rapporti... Ci ha detto che gli era presentato Gaspar e Cannizzo... Cioè aveva conoscenza di queste attività del marito in queste logge? Io credo fino al momento della sua morte... Penso di no... Si conoscevano con il dottore Cannizzo come frequentazione familiare... Però che lei sapesse diciamo dell'affiliazione del marito con le due realtà di cui prima non glielo so dire... Però il dottore Cannizzo come anche lui dopo la morte di Mangiamelli insomma è stato molto vicino alla famiglia... Aveva figli il dottore Cannizzo? Si... Mi pare due... Non vorrei ricordare male... Un maschio e una femmina... Ricorda se svolgevano le attività lavorative del padre in epoche successive o che attività lavorative svolgevano? No... Quando ci frequentavamo noi erano più o meno dei ragazzini... Poi una volta cessata la frequentazione con... Non ha più avuto rapporti... No no... Poi qualche... In occasione credo della ristampa o della nuova riedizione della rivista che poi morto Cannizzo si era fermata... La figlia aveva ripreso in memoria del padre a ripubblicare la rivista... Ci siamo forse incontrati in un convegno proprio per quell'occasione... Ecco un'ultima domanda... Ha parlato di un rapporto con Adriano Tiger successivo... Ecco... Con Adriano Tiger ha mai avuto modo di confrontarsi su Avanguardia Nazionale... Sulle attività che Tiger aveva svolto per Avanguardia Nazionale all'epoca? So che ha pubblicato anche dei libri che sono stati presentati in Sicilia... Tra l'altro mi ha chiesto di... E l'ho scritto nel libro che pur non avendo mai fatto parte di Avanguardia Nazionale... Visto che lui mi aveva chiesto amichevolmente di fare una presentazione a quel libro... E lì ho appunto specificato quali erano anche le mie... Come dire... Le mie idee in merito... All'epoca... La ringrazio... Prego... Ho finito... Questo libro l'ha scritto Tilger... Sì sì sì... Per il Procuratore regionale... Ci sono domande? La Procuratore regionale... Ho dimenticato una domanda... Chiedo scusa... Riprendo se è possibile... Per un secondo... Un secondo la parola... Ecco... Le ripeto una domanda... Forse l'ho posta... L'ho malposta prima... Ecco... Rispetto a lotta popolare... Paolo Signorelli... Aveva avuto... Se non in Sicilia... In altri contesti regionali o nazionali... Un ruolo nella fondazione di questa corrente interna al movimento sociale italiano? Io penso di sì... Sia lui che il Professore Guida... Credo se non ricordo male... Era... L'altro fondatore... Diciamo di questa corrente interna... Però io... Il Professore Guida... Non l'ho mai conosciuto... E... Però... Da quello che sapevo... Penso che c'erano contatti con... Visto che si doveva andare ad un confronto congressuale... Quindi servivano i delegati per poter dare forza a quella mozione... Penso che altri contatti c'erano... Ma non le saprei dire esattamente con chi... Quindi era interno al movimento sociale italiano? Sì... Assolutamente... Lui ancora era dirigente del movimento sociale in quel momento... Ecco... Lei sa se in quel periodo storico Francesco Mangiameli ambisse ad entrare nel direttivo della corrente rautiana interna al movimento sociale italiano? Cioè avesse in qualche modo un'aspettativa di nomina da parte di Pino Rauti all'interno di organismi dirigenti di ordine nuovo della corrente ordinovista interna all'MSI all'epoca? No... Perché come le dicevo a Palermo la corrente ordinovista che faceva capo a Rauti era rappresentata da altre persone... Dall'avvocato Fragalà purtroppo tragicamente scomparso... Dall'onorevole Tricoli... Insomma da altri personaggi... Quindi dubito che Francesco avesse aspettative da quella corrente... Questo dato però c'è un'informazione processuale o extra processuale? Allora c'è un'informazione processuale che si deriva dalle dichiarazioni di Rosario Amico che abbiamo depositato la quale ha riferito che il marito aveva questa aspettativa e nel momento in cui non gli viene... Comitato centrale mi pare... Del movimento sociale lo doveva portare Rauti... Dicevo... mi sentite... Ecco... A quel punto si distacca dall'MSI e quando non avviene... Siamo nell'anno... Vado a memoria... C'è nel verbale... Ma nel 77... 78... In quegli anni... Non negli anni 80... Prima... Un po' prima... Lei ha notizie di tutto questo? Obiettivamente no... Prendo queste notizie ora... No... Ecco... Mentre abbiamo capito... Prima avevo... Il Presidente ha capito male... Come il test ha riferito effettivamente... Paolo Signorelli era nell'MSI... E in questo ambito... In questa corrente... C'era anche il Professor Guida... Credo che fosse consigliere comunale... Non vorrei ripeto... Ricordare male... Ma credo che fosse proprio... All'interno del partito... E rivestisse proprio un ruolo... Perfetto... Grazie... Ho davvero finito... Una domanda Presidente... Il test ci ha riferito... Nella frequentazione... Con la signora Rosaria Mico... Dopo la morte... Di Francesco Mangiameli... Quindi avranno parlato... Anche di questo tragico evento... Che ha colpito... Lei e la sua famiglia... Se può riferire alla Corte... Che cosa le raccontava... Che cosa diceva... Rosaria Mico... In merito... Alla morte del marito... E soprattutto... In merito ai rapporti... Con gli altri dirigenti... Del continente... Come dite voi siciliani... Di terza posizione... Grazie... In realtà... Abbiamo parlato... Ovviamente... Innanzitutto... Nell'episodio... Che poi... Come dire... Si sapeva già... Che... Gli autori materiali... Erano stati appunto... Fioravanti... Il fratello... Insomma... Quello che poi... Dica... Dica con precisione... Dicevo... Dica già... Come da chi... Mi è stato... Ripeto... Io... I miei rapporti con... Mangiameli... Si sono interrotti... Nel... Dicembre 79... Quindi... Da quel momento in poi... Tutto quello che... Di cui parlo è... Mi è stato riferito dopo... Ad esempio... Nella conversazione... Con la signora... Amico... Si parlava ovviamente... Della... Della morte del marito... E... E lei appunto... Come dire... Alla fine confermava... Quello che poi si sarà... Si apprenderà... Diciamo... Attraverso le... Sia le inchieste... Le... Le notizie giornalistiche... Quindi che... Gli autori erano stati... Gli fiori avanti... Insomma... La Mambro... Eccetera... La mia domanda era... In queste conversazioni... Se... Rosario Amico... Siccome la Corte ha letto il verbale... Di Rosario Amico... Giorni fa... Quindi... Mi riaggancio... Quello che sta dicendo lei... Ma quello che è venuto... In quest'Aula... Qualche giorno fa... Eh... Se... Il discorso... Sulla morte del marito... Sulle vicende... De... Di Francesco Mangiameli... Ha riguardato anche... I dirigenti nazionali... Di terza posizione... Cioè... Fiori Adinolfi... No... C'è... Il problema era che... Eh... Lei... Assieme... Da quello... Ricostruisco... Secondo le notizie... Che... Che ho avuto poi dopo... Eh... La... Signora Amico... La figlia... Eh... Eh... Francesco... Erano assieme... A volo... E alla moglie... E quindi... Erano andati... Come dire... Ufficialmente... A fare delle vacanze... Quindi... Lei era rimasta... Assieme... A volo... Credo... Assieme... Alla moglie di volo... Adesso... Non ricordo... Francesco... Invece... Doveva avere un appuntamento a Roma... Con... Penso... Immagino... Esponenti di terza posizione... Di cui... Lui... In quel momento... Era uno dei responsabili... E poi... Il resto... Diciamo... È cronaca... Perché poi... Lui non rientra... Loro... Insomma... Vengono avvisati... Del... Del ritrovamento... Del corpo... E tutto quello... Che poi... Nesserebbe... A beneficio... Della sua memoria... Ricordo... Che... Quando è stato... Interrogato... Il 27 giugno... 2019... E lei... Su questo tema... Ha risposto... Sara... Che è il diminutivo... Sì... Dopo l'omicidio... Del marito... Mi disse... Che era... Delusa... Dai due... E in particolare... Stiamo parlando... Di... Fiore e Adinorchi... Stiamo parlando... Era delusa... Dai due... E da terza posizione... Romana... Perché... Pensava... Che non avessero... Protetto... Francesco... Confermo... Quello che ho detto... Allora... Sì... Assolutamente sì... Lei era... Come dire... Pensava che... Francesco... Dato i rapporti... Che sapeva esistere... Fra Fiore... Adinolfi... E Francesco... Che... Praticamente... Andando a Roma... Per incontrare loro... Fossi in un ambito... Di persone amiche... Non certamente... Di qualcuno che... Che gli spara... Insomma... Era questo il concetto... E quindi... Che loro... Non lo avessero sufficientemente... Come dire... In qualche modo... Protetto... E' garantito... Nei rapporti con... 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 Con chi altro... Era... Avvenuto... L'incontro... Cerchiamo di approfondire questo argomento... Eh... Non averlo protetto... Implica un concetto... Dal... Dal senso del discorso... Che questi due... Avrebbero potuto prevedere... O comunque... Immaginare un esito... Impausto... Perché c'era stato un episodio avvenuto a Tre Fontane, c'era stato un episodio pregresso. Noi abbiamo bisogno di sapere tutto ciò che l'amico le ha detto, abbiamo acquisito il verbale, ma qui l'amico non ha deposto direttamente, quindi ci interessa sapere. Io so che c'era stato un diverbio fra Francesco Mangiameli e Lamambro e Fioravanti quando erano stati ospiti loro a Tre Fontane perché il Fioravanti, non so se anche Lamambro, avevano fatto una specie di scherzo di cattivo gusto, erano in macchina con la moglie e la figlia, Francesco non c'era, a un certo momento si erano fermati su un binario ed erano scesi dalla macchina. Ovviamente non era successo nulla, però quando rientrò Francesco e ha saputo di questo episodio si era molto arrabbiato con Mangiameli e Fioravanti, addirittura so che li ha praticamente allontanati dalla casa perché lui aveva un amore morboso per la figlia e questo risentimento nei confronti di Fioravanti sia stato forse pure all'origine di quello che poi è successo dopo. Dice che questa è la causale del delitto? No, non direttamente, però sicuramente c'era già stato un motivo di discrezio molto forte. Sì, però noi vorremmo sapere le causali politiche del delitto, se ne usa? No, questo vi posso essere di pochissimo aiuto perché come l'ho detto in quella parte di vicende avvenute dopo il mio allontanamento da terza posizione non ho... Ma con la signora Micco lei... Sì, sì, ma la signora Micco non partecipava all'attività politica di terza posizione, quindi magari quando c'era qualche incontro a casa sua ma aveva sentito qualche... Però ripeto, non era una persona che seguiva le vicende politiche di terza posizione. Sento, ma il discorso che lei ha fatto di non averlo protetto, cioè noi diciamo in queste aule è un reato omissivo, cioè hanno omesso un comportamento... Da come l'ho detto io, perché forse era prevedibile un qualcosa... Siccome anche da quello che mi risulta, anche quelli di terza posizione non avevano dei buoni rapporti con Mambro e Fioravanti, quindi immagino che questo risentimento era... Cioè voi che... anche voi che diffidavate di Mambro e Fioravanti, com'è che l'avete lasciato andare solo a un incontro con questo e questo? Ecco, a prefogliato questo tema, perché diffidavano i quelli di terza posizione, non c'era alcuni di terza posizione, diffidavano di Mambro e Fioravanti? Per le diverse ovviamente scelte politiche, chiamiamole così, fatte da loro. Erano due orientamenti molto dissimili. Salto, nel Mambro e nel Fioravanti mi risulta siano stati parte di terza posizione. Certamente, ma il fatto di una mancata protezione implica una violazione di un dovere, di un comportamento nei confronti di un collega di corrente, di gruppo politico, violazione di questo dovere in relazione a un qualcosa di prevedibile, non un qualcosa di prevedibile. Perché, come ho detto prima, c'era stato già quel precedente in Sicilia, quindi il dissapore fra Mangiamelli e Fioravanti era già nato in Sicilia prima di quell'incontro tragico di Roma. Quindi, ecco perché lei probabilmente era preoccupata, perché sapeva bene che anche il marito non aveva, come dire, un buon rapporto, chiamiamolo così, con Fioravanti. Facevano Fiore e Adinolfi a conoscere questo piccolo marginale episodio familiare, se non era certamente un episodio di questo diverbio, era un diverbio familiare e non aveva alcuna rilevanza politica. Questo non glielo so dire, ma penso che appunto incontrandosi ne avrà parlato con loro, anche Francesco Mangiamelli avrà raccontato di questo episodio, penso. E lei pensa che un episodio del genere possa generare… No, io ho detto e ritorno a sottolineare, non è questa la causa, ma sicuramente, come dire, la credine che nutrivano Fioravanti e Lamambro nei confronti di Francesco che li aveva appunto allontanati dal villino in cui erano stati ospitati, è sicuramente un elemento. Non è quello, probabilmente, io non lo so, però sicuramente questo ha contribuito. Ma era una credine, noi abbiamo letto anche la dichiarazione di volo, era una credine dovuto anche a posizioni politiche, a posizioni strategiche differenti, perché qui non si ammazza una persona e gli fa scomparire il cadavere e si progetta anche il delitto della moglie e della figlia, ci sono le sentenze che ne parlano, secondo le sentenze Francesco Mangiameli è stato ucciso barbaramente con l'occultamento di cadavere affinché non parlasse, affinché non riferisse particolari di sua conoscenza. Io invece la versione che conosco è che era addirittura stato accusato di essere appropriato di soldi, conoscendo Francesco lo escludo trattativamente, perché fra l'altro era già disposto addirittura pure a vendere la casa per l'attività politica, si immagina se andava a rubare o si appropriava i soldi del movimento e quindi questo lo escludo assolutamente. Perché questa unessa protezione di cui lei parla, di cui parla Rosario Amico, presuppone, lascia intendere che dietro questo comportamento omissivo ci sia una questione di diversità strategica e di diversità di fondo che vanno ben al di là del litigio in famiglia privato. Sì, sì, no, quello sicuramente, sono assolutamente… La presenza dei mangianelli e dei mangianelli di Fioravante e Mambro a Tre Fontane è in un periodo molto delicato, cioè fino a luglio 80. Ecco, anche su questo profilo posso, Presidente, siccome è una presenza secondo noi non marginale, non occasionale, perché secondo la ricostruzione delle sentenze, a incontrare Mangiamelli in quel periodo dell'estate 1980, a partire da giugno, ci vanno in sequenza Fiore, Ciavardini, Mambro e Fioravanti, quindi vanno in pellegrinaggio a Palermo queste persone in quel periodo. Alla fine dell'incontro di Mambro e Fioravanti con Ciccio Mangiamelli c'è questo episodio del dissidio e poi sappiamo cosa succede, ci sarà l'intervista di Amos Spiazzi, un agente del segreto che dà intervista, c'è il 2 agosto, il 5 agosto mi sembra e poi viene pubblico e poi? E quindi c'è una sequenza di fatti, tanta gente viene in Sicilia, viene il capo di terza posizione, viene il suo braccio destro militare che è Ciavardini, vengono in Art, Mambro e Fioravanti, la strage di Bologna, c'è prima della strage un incontro tra Francesco Mangiamelli e Amos Spiazzi a Roma, Amos Spiazzi subito dopo la strage fa un'intervista che dal punto di vista così strategico per un operatore dei servizi è assurdo. Presidente, ecco questa è una domanda, io sto raccontando dei fatti accertati dalle sentenze, che è una domanda articolata, per capire se il test poi ci dà le risposte attendibili o no. Quindi gli incontri suoi, grazie Presidente perché è una domanda complessa, gli incontri suoi, torniamo alla domanda, con Rosario Amico avvengono dopo una sequenza di fatti che riguardano anche terza posizione perché Fiore è un leader di terza posizione, Ciavardini è un militare di terza posizione, Mangiamelli è un leader di terza posizione che incontra Mambro e Fioravanti, c'è un uomo dei servizi che incontra a Luglio durante la presenza di Mambro e Fioravanti a Palermo, Mangiamelli si stacca, va a Roma e poi torna. C'è questa intervista di Spiazzi e poi c'è l'omicidio brutale di Mangiamelli. Lei è stato di terza posizione, la domanda, avrà parlato anche di questo compendio di fatti con Rosario Amico? Lei ora me la sta esponendo in buon ordine, ma io ripeto di questi fatti ignoro quasi tutto, né la signora Amico mi ha mai sequenziato come sta facendo lei questi fatti in quest'ordine e secondo la logica che immagino lei segue quindi non saprei cosa dirle, io ignoro la gran parte dei fatti di cui lei mi sta parlando, direttamente a me la signora Amico non ha mai parlato di questo. Parla solo di omessa protezione. Un'altra cosa, al funerale di Francesco Mangiamelli, lei non c'era però, ne avrà sentito parlare, avrà letto, lei era di terza posizione, vengono distribuiti due volantini, in uno si dice che Francesco Mangiamelli è l'85esima vittima della strage, si cita Spiazzi, nell'altro si dice che Francesco Mangiamelli è stato ucciso e che non avevano potuto comprarlo, perché non l'avevano potuto comprare. Lei ha saputo di queste cose come esponente di terza posizione, che interpretazione e che agganci storici rispetto a questi fatti lei può fare sulla base della sua esperienza. L'unica deduzione logica che posso trarre è quella, cioè che conferma di quanto è la mia personale, diciamo conoscenza, il profilo di Mangiamelli per come l'ho conosciuto io, ripeto, è antitetico a quello di un personaggio che partecipa o organizza una strage, però per cultura, come dire, non solo politica, ma anche per forma mentis, Mangiamelli è la persona più lontana dalla partecipazione ad una strage. E quello che lei ha conosciuto ritiene che la sua linea politico strategica fosse di netta contrapposizione alla strage? Io penso di sì, io penso di sì. Senta, se la corte consente, farei vedere il volantino a tutti e due, ma in particolare vediamo tutti e due. Il volantino… Lei li ha mai visti questi volantini? No, no. Guardi, il primo scritto a pennarello è quello che viene dato al funerale, in cui ci sono delle frasi molto forti, ci sono. Non ne ha mai sentito parlare nulla? No, sapevo di… ma non li ho mai fisicamente visti, è la prima volta che ne ho visto. Guardi, quel volantino, troppo mi sembra che sia firmato terza posizione. Sì, sì, è firmato terza posizione. Ecco, se il Presidente può consentire la lettura? Sì, certo. Guardi, guardi con calma, io vorrei che soprattutto si soffermasse anche sul primo volantino con calma e poi anche sul secondo. L'ultima parte è semplicemente un brano della canzone di terza posizione. Sì, ecco. Se Le Guaregley si soffermasse sul primo volantino, quello del funerale, in cui c'è una frase molto forte… E quella sottolineata… Penso di sì… L'hanno ucciso perché non lo potevano comprare… L'hanno ucciso perché non lo potevano comprare… E firmato terza posizione, quindi io le chiedo, sulla parte della sua esperienza in terza posizione, anche se è cessata l'anno prima, come… che cosa rileva in quella frase? C'è qualcosa della sua esperienza, della sua conoscenza di Francesco Mangiameli che giustifica quella frase? C'è quella frase per me è quello che ho appena detto, cioè che la sua integrità era tale che appunto non poteva essere oggetto, come dire, di un qualunque coinvolgimento, dico anche fosse… E quindi significa comprare… Non so poteva… Significa qualcuno che gli dà dei soldi… Non so poteva… Cosa poteva vendere… E appunto è quello che mi chiedo pure io, cioè comprare in senso letterale, secondo me non ha senso perché… che doveva appunto Francesco… Consenso politico è una cosa che si può comprare, ad esempio, consenso a una strategia che non si condivide… Non voglio offendere la sua intelligenza, ma parliamo di un gruppo di una decina di militanti, io non credo che… Mestevano arrepentagli… Di cui almeno uno… Di cui uno è stato già condannato in via definitiva per aver partecipato alla strage di Bologna come esecutore materiale e nel contesto che lo vede implicato nella strage di Bologna lo vede anche in Sicilia a parlare con Francesco Mangiamelli e quindi… Sì no questo… Va bene… Comunque lei conferma la netta contrarietà… Sì sì assolutamente sì… Sotto il profilo politico strategico di Francesco Mangiamelli… Ne sono certissime… Solo una precisazione così mettiamo ordine nelle date… Perché lei prima ha detto che la vicenda del binario è avvenuta quando Francesco Mangiamelli… non c'era… Sì giusto… Così le ha riferito Rosario Amico… Non era presente… Sì sì… No è lei che me l'ha raccontato… Ecco… Lei sa quando non c'era Francesco Mangiamelli a Tre Fontane… il periodo esatto? E durante questa permanenza di Fioravanti e Mambro lì… Adesso… L'aiuto io… Ecco… Il 17 luglio… Francesco Mangiamelli non è a Palermo… Torna immediatamente dopo… Mentre Mambro e Fioravanti si allontanano da Tre Fontane… A fine luglio… 29-30… Quindi… C'è un lasso di tempo tale… Che se l'episodio fosse stato così grave… Tanto da allontanare… Li avrebbe allontanati immediatamente… 12 giorni dopo… Questo… Va detto per la precisione… Ecco… Quindi… Lei mi conferma il dato che Francesco Mangiamelli non era presente… Al momento del… Sì dell'episodio… Ma non era presente perché probabilmente era a Palermo… Perché fosse andato… Ma non era… Perché era allontanato da Tre Fontane… Ma non era andato… Ma vabbè… E' fuori… Questo è il primo episodio… Poi il secondo episodio… Sulle date… Per fare chiarezza… E' questo… L'episodio di… Diciamo… Della… Collutazione è venuta a Palermo… In Piazza Politea… Lei… Nel corso della sua deposizione… Era collocata nel 77… Poi dopo l'Avvocato Speranzone… Ha prodotto un articolo di giornale… Che riguarda invece l'agosto 78… Ecco… Eh vabbè Pappu… Di questo mi assumo io la responsabilità… Le date… Capirà bene… Dopo tanti anni… No… L'articolo… L'episodio è quello… L'episodio è quello… L'episodio è quello… Quindi lo collochiamo nell'agosto 78… Giusto? Sì… Ecco… Signorelli e Leandri erano insieme… Esatto… Eclusivi… In particolare 4… 78… 79… 78… E poi 4 nel 79… Sono 4 e 4… Però quando vanno a Palermo… Sono già scoppiate alcune bombe a Roma… Non… Lei lo sapeva di questa… Questa è la seconda precisazione sulle date… La terza… Terza è una domanda… Che… Diciamo… Mi è… Indotta dall'esame della parte civile… Sulle logge massoniche… Lei ha mai sentito parlare… Della logge a Camea… A Palermo… Non ho sentito parlare… Ma non le sapevi dare nessuna indicazione… Non sa darmi nessuna… 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 Nessuna indicazione… Va bene… Non vado oltre… Ci sono altre domande… Procuratore Generale… L'Avvocato Generale… La politica però mi pare di capire… Fino al 2003-2004… Poi ho deciso che… Che non è cosa… Va bene… Avrei… Se la Corte ha finito… Un paio di domande… Allora… Stimolate… Sia dalle domande… Dalla Procuratore Generale… Che dalla… Dalla difesa… E… Rispetto proprio al 2 agosto 1980… Dopo la strage… Ecco… Lei ricorda di una lettera anonima… Dattata 30 agosto 1980… In cui lei veniva menzionato… Assieme a Balistrieri… Manzameli… E Volo… Ecco… Se la ricorda… Si può riferirla… In che… Me l'hanno… In che… Ricordo io… Ricordate i giudici… Che mi hanno interrogato… Su questo… Io… Infatti lo disse anche allora… Ero pronto… In qualunque momento… A fare un confronto con Volo… Perché io Volo… Non l'ho mai conosciuto… Quindi quella infatti… Poi si è scoperta… Che era una lettera sua… In cui chiamava in causa… A me che non aveva mai conosciuto… Quindi mettendo… Tutta una serie di vicende… Assolutamente false… Inventate… In questo… In riferimento a quella lettera… L'oggetto di quella lettera… Era sostanzialmente… Verificare… Dove voi foste… Nel giorno… Se ricordo bene… La strage… Ma sono stato… Ripeto… Oggetto di… Di vicina da parte… Della squadra politica… Quindi… Ho dei buoni testimoni… Le chiedo… Se ricorda… Chi le… Le… Parlò… E le esibì… Questa lettera… Dicendole anche… Quello che era stato… Se sennò… Posso vedere in aiuto… La tua memoria… La mia memoria… Non si… Non si confonda… Non mi ricordo… Se sia stato durante… Un… Non so se sia stato il giudice Falcone… Durante quell'interrogatorio… O successivamente… Qualcuno dei giudici a Bologna… Questo… Perché ecco… Nel verbale di dichiarazioni… Rese ai… Sostituti procuratori generali… All'avvocato generale… Il 27 giugno del 2019… Quando le venne chiesto… L'ufficio informe… Il testimone… Della lettera anonima… Del 30 agosto 1980… In cui viene indicato… Il nome di Incardona… Unitamente i nomi… Balistrieri… Mangiamelli… E Volo… Lei di questa lettera… Cosa sa… Risposta… Sono venuto a conoscenza… Di questa lettera anonima… Probabilmente in un colloquio… Con il giudice Falcone… Sì… Lo conferma… Probabilmente… Sì… No… Sicuramente… Sarà stato in quell'occasione… Ecco… Le fu riferito… Nel corso… Di quel colloquio… Che l'autore… Probabilmente… Era proprio Alberto Volo… Si… Lo conferma… Questo… E che non aveva mai conosciuto… Esattamente… Ecco… Poi… Una seconda precisazione… Sulla domanda… Del difensore… Di Paolo Berlini… Se lei… Nel contesto… Dell'ordine martinista… Oltre a Gaspare Canizzo… Avesse… Conosciuto… Altri… Le formule… La stessa domanda… Sotto il profilo… Dell'identificazione… Di queste persone… Lei ha già risposto… Alla corte… Dicendo… In queste riunioni… Eravate tutti… Incappucciati… Quindi… Non vedevate… Comunque… Non vi vedevate… Nei connotati… L'uno con l'altro… Ecco… In questi contesti… Dove… La domanda è… Eravate… Come dire… Ritualmente… Incappucciati… Successivamente… Al compimento… Dei riti masonici… C'erano momenti… Di incontro… Fra i partecipanti… O rimaneva una sorta di… No… Poi… Gli incontri successivi… Erano soltanto… Con il dottore Gannizzo… Cioè… Ci intrattenevamo… Poi… Personalmente… Con il dottore Gannizzo… E non c'era una conoscenza… Fra i vari… No… No… Ma ripeto… Era… La gran parte… Erano… Figure femminili… A fare parte… Dell'ordine martinista… Le chiedo… Poi… Un'ultimissima cosa… Ha già riferito… Dell'incontro… Con Stefano Mericacci… E… Del fatto che… Il Mericacci… Le aveva chiesto… E lei… Dicendo la verità… Ha spiegato… Che… Disse… In un altro giudizio… Che… Avanguardia Nazionale… Non aveva… Sedi… A Palermo… Per quanto lei… Sapesse… Ecco… Le chiedo… Se… Ricorda… Dopo la deposizione… Direi… A Bologna… Eravate… Se… Stefano Mericacci… Le abbia chiesto… Qualcos'altro… Se ne ha memoria… No… Semplicemente… Così… Anche come aneddolo… Non ha credo nessun valore… Trenne quello… Mi chiese… Anzi… Mi disse… Che Stefano… Mi voleva ringraziare… Stefano… Stefano… Delle Chiai… Mi voleva… Io… Era la prima volta che lo vedevo… Perché era stato… Credo ancora… Trasferito… Dall'estero… Ed era nella gabbia… Che… Mi voleva ringraziare… Infatti… Mi avvicinai… Per salutarlo… Mi aveva… Mi aveva… Sto pigliandomi una severa reprimenda… Del… Del… Quindi… Poi ci siamo rivisti anche con lui… Per le vicende del fronte nazionale… Di due primi… Sì… Quindi… A me interessava capire… Se era stato Stefano Menicacci… Avvocato di Delle Chiaie… Direi… All'epoca… A spingere… A chiedermi… A chiedermi… A chiedermi… A chiedermi… A chiedermi… Sì… 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 No… E Falcone cosa decidereva sapere da lui? Falcone mi ha interrogato… Ripeto… Per i fatti legati all'omicidio di Mattarella… Quindi… Domande sul… Su… Sull'ipotesi… Che fossero stati ambienti… Della destra… Eccetera… Tanto è vero… Anche qui se mi permettete di… Un aneddoto… Finito l'interrogatorio… Io ritornai a casa… L'indomani doveva essere interrogato questo mio amico… Roberto Milanza… Ripeto… Purtroppo non c'è più… Che mi telefonò… Dicendomi… Ma che ti ha chiesto il giudice… Perché domani poi ci devo essere pure io… In tribunale… Eccetera… E gli disse… Ma è pazzo… Pensano veramente che… Ci possano entrare gli ambienti di destra… Con l'omicidio di… Di Mattarella… Che risaputamente… Dico… È un omicidio talmente grave… Che solo la mafia se lo può intestare… Indomani venne il riconvocato dal giudice Falcone… Che appena… Mi vide dentro il figlio… E quindi io sarei pazzo… Avevano intercettato la nostra telefonata… Quindi le domande riguardavano… Sì… No… Le vicende… Se io potessi avere notizie su… In qualche modo un coinvolgimento dell'ambiente di destra palermitano in quell'omicidio… Come… Appena finito di dire… O è escluso tassativamente… Va bene… Presidente… Per informazione… La moglie di Mattarella… Ve l'ha riconosciuto… Sì… 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 Se ci può fornire quella pagina 3 del documento… Mi date un riferimento… Io ve lo invio senz'altro… Quindi ci riserviamo eventualmente di depositarla… Mentre formalmente… L'abbiamo… Non ricordo… Già fatto… Di depositare il giornale di Sicilia di mercoledì 9… No… Ancora non ce l'ha dato materialmente… Ancora non ce l'ha dato materialmente… Significa quali l'ha dato che avoga.. Grazie.